Eccoci qui ragazzi allora, buon sabato a tutti quanti voi, benvenuti in questo mio nuovo video pomeridiano. Prima di parlare diciamo dell'argomento di oggi vi ricordo come al solito di lasciare subito un mi piace per supportare me e l'impegno che almeno provo a mettere sul mio canale. Vi ricordo che sono attivo anche sul sito Viola e questa sera dalle 9 fino a orario ancora da definire, quindi potrebbero esserci delle cose clamorose, sarò in diretta. Quindi potrete trovarmi lì per guardare i miei gameplay e in generale chiedermi e parlare di tutto quello che volete. Detto questo ragazzi allora, cosa mi ha dato l'ispirazione per fare un video di questo tipo? Me l'ha data un commento che ho letto riguardo i sorteggi di Europa League. Voi mi direte ma cosa c'entra l'Europa League visto che domani si gioca in campionato contro il Milan? Ho preso spunto perché ho letto un commento in cui qualcuno diceva speravo di beccare il Milan, in crisi in questo modo avremmo vinto facilmente. Dopo aver letto una cosa di questo tipo, non era proprio uguale il messaggio ma era per farvi capire comunque che ci sono persone che credono che il Milan sia attualmente una squadra battibile, una squadra in netta difficoltà che sicuramente farà male da qui fino alla fine del campionato, una squadra che non si sta più ritrovando. E io volevo fare appunto questo video per farvi tornare un po' con i piedi per terra. Soprattutto perché dall'alto della mia esperienza 27ennale, diciamo più o meno, di tifosi della Roma, ne ho vissute di tutti i colori. Se fossi stato più vecchio ne avrei vista ancora di più perché la storia della Roma è costellata da episodi un pochino così e da partite soprattutto sottovalutate. Per questo motivo io mi preparo alla partita di domani senza neanche pensare minimamente che sarà una partita facile. Qualcuno adesso pensa che comunque solo perché il Milan adesso sta vivendo una crisi comunque di risultati di gioco domani vinci facile. Veramente non pensate minimamente una cosa del genere. Ma non perché dobbiamo sottovalutare la Roma ma perché dobbiamo capire che ogni partita è una storia a sé e credere che il Milan solo perché magari ha sofferto con la Stella Rossa o ha perso malamente con l'Inter e questo e quell'altro venga domani a Roma per fare la passeggiata. Ricordatevi che fino a qualche settimana fa erano primi in campionato e soprattutto non è che si stanno divertendo nello stare sotto quindi vorranno in tutti i modi fare risultato da noi perché perdere ulteriore terreno anche domani vorrebbe dire abbandonare definitivamente l'ipotesi dello scudetto cosa che secondo me finché comunque sei in lotta devi provare a restare lì. Non è che puoi dire no adesso pensiamo al quarto posto ormai è andata comunque i punti di distacco sono solo quattro e se è vero che lo scontro diretto comunque è andato a favore dei nerazzurri non si può veramente dire nulla. Ci sono stati campionati che sono stati vinti a cinque giornate dalla fine con un distacco di più nove per fare un esempio. Quindi comunque non si può certo pensare che adesso il Milan sicuramente è una squadra fallimentare. I giocatori buoni ce li hanno seppur non hanno una rosa secondo me di gran lunga superiore alla nostra sono una squadra temibile da affrontare proprio perché è ferita. Cioè allora se loro fossero arrivati a questa partita senza perdere mai senza aver fatto nessun risultato negativo non dico che sarei stato meno preoccupato però per la legge dei grandi numeri si poteva sperare diciamo nel fermarli perché prima o poi una squadra si deve fermare il fatto che loro arrivino qua bisognosi di punti e dopo alcune prestazioni non all'altezza non mi fa stare tranquillo. Poi per carità comunque ho fiducia nella mia squadra che sta comunque facendo delle buone partite salvo quella col Benevento che è andata in quel modo per una tattica molto difensivista dei padroni di casa e per molte imprecisioni diciamo da parte nostra. Però salvo quella partita e cioè esclusa proprio quella partita a livello di gioco per me la Roma sta attraversando un buon momento. Se poi pensiamo anche alla recente sconfitta, l'ultima sconfitta in campionato contro la Juve sì molti l'hanno massacrata però secondo me è stata una sconfitta comunque venuta fuori dopo una partita giocata bene appare il mio in cui avevi creato poco ma soprattutto per le chiusure difensive tempestive dei padroni di casa a livello di gioco comunque la Roma sta facendo bene anche col Braga io avevo paura seriamente che potessimo sottovalutare la partita in quanto il 2-0 era considerato da molti un risultato già tranquillo. Per carità la partita è andata come è andata e se non l'avessimo fatto noi lato gol non l'avrebbero segnato neanche con le mani come ho detto nel video post partita. Però vanno sempre affrontate con la giusta concentrazione perché quante volte la Roma ha buttato via i propri obiettivi per partite contro squadre considerate mediocri o comunque già battibili? L'anno di Ranieri abbiamo buttato via uno scudetto per aver fatto un punto con Livorno che ha retrocesso un punto in due partite. Nel 2008 stessa cosa, ne ha fatti due e comunque ha perso anche per partite così. Oppure il famoso Roma-Lecce dell'86 sono degli esempi per farvi capire che non si può mai dare nulla per scontato anche in quest'anno in cui la Roma effettivamente sta dimostrando di trovare continuità e di ottenere buoni risultati almeno nelle partite con squadre di medio, bassa classifica e anche questo è un motivo che diciamo mi fa essere preoccupato per domani non perché ho paura della Roma ma perché la reputo in generale una partita molto ostica da affrontare. Non so se giocheranno con Ibra e sicuramente se dovesse mancare per noi non sarebbe un male è perché magari non sta attraversando il miglior momento di forma è un giocatore dal grande carisma e può mettere in difficoltà chiunque se ovviamente messo nelle condizioni. Ma a parte lui comunque il Milan è una squadra che finora aveva fatto benissimo cioè non illudiamoci dalle ultime settimane perché è semplicemente un diciamo una cosa normale se pensiamo a quello che hanno fatto prima diciamo che prima avevano fatto tanto meglio rispetto alle aspettative sia dei tifosi avversari che dei tifosi del Milan adesso stanno un pochino tirando il fiato ma da qui a dire che era meglio prendere loro agli ottavi dello Shakhtar con tutto il rispetto per gli ucraini ma mi sembra un po' un'esagirazione cioè io tra le due avrei preferito mille volte gli ucraini perché poi per carità il Milan lo conosci meglio e tutto ma anche loro conoscono meglio te e andare a San Siro non è mai facile quindi non sto sottovalutando l'impegno che dovremo affrontare però secondo me molti pensano che il Milan ormai sia battibile da chiunque non illudiamoci di questa cosa poi se domani ottieni il risultato vinci la partita e convinci soprattutto allora dirò avete ragione voi il Milan è in calo e ne abbiamo approfittato ma calmi ragazzi perché ogni partita è storia a sé non è che se hanno perso con lo Spezia male allora con noi dovranno perdere ancora peggio cioè non funziona così perché comunque indipendentemente dal proprio avversario si può entrare in campo con una mentalità buona una mentalità cattiva e può succedere veramente l'inverosimile il bello del calcio è anche questo bello e brutto dipende dai punti di vista e per questo motivo io mi auguro che la squadra entri in campo con la giusta concentrazione purtroppo mancherà Dzeko e in ogni caso questa è una cosa negativa sì ma Joral sta facendo bene ed è molto meglio diciamo avere una riserva adeguata piuttosto che avere il Kalnich o lo Schick di turno per carità di Dio però un Dzeko nella rosa fa sempre comodo perché ti entra nel finale e ti tiene palla lo metti dall'inizio può provare qualche azione qualche colpo di testa qualche azione ben manovrata un Dzeko l'avrebbe fatto senz'altro comodo io credo che si opterà per Majoral con la possibilità magari di spostare Mkhitaryan falso 9 in questo caso l'acquisto di Asharawi si potrebbe rivelare molto interessante perché appunto metti caso Borca Majoral deve rifiatare metti lui metti Asharawi lo metti al posto di Mkhitaryan nell'Armeno lo metti falso 9 una cosa che comunque ha funzionato con il Genoa è vero non parliamo proprio di due squadre identiche paragonando i rosso-blu ai rossoneri però è una tattica che si potrebbe utilizzare fatta sta però che la sua mancanza ho paura che si faccia sentire ma la Roma ha tutte le carte in regola per fare comunque una buona partita io mi auguro di tutto cuore che la squadra non sottovaluti il proprio avversario e giochi con la testa pensando che il Milan non è quello che si è visto nelle ultime tre settimane ma è una squadra che fino a due settimane fa era prima in campionato mettiamoci in testa questo non pensiamo ma tanto adesso le stanno a perde tutte hanno pareggiato con lo Stella Rosso in 10 non vuol dire nulla non vuol dire nulla perché sì sono d'accordo che non stanno vivendo il loro momento migliore di forma e che con la Stella Rosso hanno fatto una mezza figuraccia però calmi calmi prima le partite giochiamole perché noi con tutto il rispetto per la Roma per Fonseca e tutti non siamo nella condizione di poter sbeffeggiare nessuno almeno finché sono sopra in classifica perché qua diciamo questo e quell'altro ma il Milan pur considerato morto da tutti è ancora lì a 49 punti mi pare quindi stiamo calmi perché 49 punti non si fanno a caso quindi testa alta concentrazione e soprattutto rispetto dell'avversario vai in campo per mostrare le tue qualità per mostrare che effettivamente sei più in forma e meriti diciamo di ottenere i tre punti giochi per ottenerli e poi una volta confinita la partita si potrà dire se effettivamente sei messo meglio o meno ma da qui a pensare che il Milan squadra di merda ormai finora sono andati avanti a culo con i rigori perché senza i rigori non vincono ste cazzate lasciamola ad altri lasciamola ad altri noi pensiamo a ragionare con la testa e non pensiamo di aver già vinto quando ancora ci sono 90 minuti più recupero da giocare mi raccomando non facciamo questi errori perché a meno che non diventiamo la Juve che vince 9 scudetti in 9 anni attualmente non ce lo possiamo permettere detto questo ragazzi allora vi invito a lasciare sempre un mi piace per supportarmi ci vediamo questa sera sul mio profilo viola per la live di 3-4 ore che ho intenzione di fare non so se ci riuscirò ma non si sa mai e niente ragazzi un salutone buon fine settimana tutti quanti ci vediamo domani non so se solo per la recensione oppure anche per un altro video la mattina però in caso lo vedrete qua su questo canale attivando la campanella magari se possibile attivate la campanella così a youtube togliete diciamo il pensiero e al 90% vi arriva la notifica così il video non ve lo perdete un saluto tutti quanti e sempre comunque forza Roma dai ragazzi